Come Agostino, primo arcivescovo di Canterbury, inviato da Papa Gregorio tra le gente anglosassoni, così 19 coppie di vescovi, un cattolico e un anglicano, sono state chiamate a seguire le orme del grande evangelizzatore, mercoledì, nella chiesa di San Gregorio al Celio. Il mandato, conferito da Papa Francesco e dal primate della comunione anglicana Justin Welby, è stato il momento più importante dei vespri celebrati a 50 anni dallo storico incontro tra il beato Paolo VI e l'arcivescovo Michael Ramsey, che portò alla nascita del centro anglicano a Roma, ma anche l'inizio del dialogo teologico. Un invio per proclamare insieme il lieto annuncio della pace, con le parole e i fatti a coloro che vivono sotto la minaccia di violenza e in miseria. All'inizio della celebrazione è la firma di una dichiarazione comune, nella quale è stato espresso il vivo desiderio di unità, nonostante i disaccordi su molti temi, in particolare sull'ordinazione delle donne. Differenze che però non scoraggiano, ma sono da stimolo per una maggiore comprensione. Nell'Omeria, Papa Francesco ha poi rimarcato l'importanza di continuare a camminare insieme. Rimaniamo fiduciosi, perché in noi, che puri siamo fragili, vasti di cretta, Dio ama riversare la sua grazia. Egli è convinto che possiamo passare dalla calicine alla luce, dalla dispersione all'unità, dalla mancanza alla pienezza. L'invito di Papa Francesco è stato quello di riconoscersi come fratelli, vincendo le tentazioni delle chiusure e degli isolamenti, perché spinti dallo stesso Vangelo e dalla stessa missione nel mondo, per operare come strumenti di comunione, sempre e dovunque. E condividendo concretamente le difficoltà e le gioie del Ministero, che ci riavviciniamo gli uni agli altri. Che Dio vi conceda di essere promotori di un ecumenismo audace e reale, sempre in cammino nella ricerca di aprire nuovi sentieri, di cui beneficeriamo in primo luogo i vostri confratelli nelle province e nelle conferenze episcopali. Guardando al pastorale di San Gregorio Magno, che nella parte di curva mostra l'agnello risorto, segno della volontà del Signore di radunare il greggio, il Papa ha evidenziato che il vero messaggio da portare insieme è l'amore che vince il peccato. La punta del pastorale, ha evidenziato, è lì a ricordare che bisogna uscire dai propri recinti. La missione dei pastori è quella di aiutare il grece loro affidato, perché sia in uscita, in movimento, nell'annunziare la gioia del Vangelo, non chiuso in circoli ristretti, in microclimi ecclesiali che ci reporterebbero ai giorni di nuvole e caligine. Insieme chiediamo a Dio la grazia di imitare lo Spirito e l'esempio dei grandi missionari, attraverso i quali lo Spirito Santo ha rivitalizzato la Chiesa, che si rianima quando esce da sé per vivere e annunciare il Vangelo sulle strade del mondo.